Ok, siamo in onda, vai ormai siamo online andate qua, che professionale ehi c'è questa una che prima stava affacciata con la gonna là, si vedeva tutto a via Roma si vedeva tutto si vedeva tutto la mutanza allora stava a via Roma a metà là, la piunta io non la piunta è molto centrata ma che c'era i fiorellini? la mutanza poi a poco questa sarà una che è abbastanza seria e qua a meno a piavare ecco la cosa stava a voler posto piano sicuramente la brutta una casa in moto la trova a volo cappotto io la so così anzi la trova a volo cappotto ehi ciao 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 pink il vino volta un poca la presa alla alla dirigenza Gino, parola per la stampa. Non si sente. Certo, qui la parola per la stampa. Ma la fanno anche uno. E niente noi, niente noi. Che faccia la spia? Riprendi, riprendi. Danno un colpo d'occhio qua. Un colpo d'occhio. Panoramica, panoramica. Firmate l'altro. Alla è anche l'altro direttore. Dirigente, Ettore. Un bellissimo dirigente delle canzelle. Parola per la stampa. E che faccia la spia? E che fai? La faccia c'è la, è fisico pure. Stasera vi attenziamo. La parola per la stampa, la faccia c'è la. La faccia c'è la, è fisico pure. Ma non è che ne tenete pure se a pioppare. Noi vado. Ciao. Non ti preoccupare, l'immortetto qua. L'immortaggio. Riprendi, riprendi. Guarda, riprendi, guarda. Bello. No, forse va lungo. A destra tu, vabbè. A destra. Vai, vai. Riprendi, riprendi. Riprendi, riprendi. Riprendi. Qua si addombano. Occhio. Occhio. Però l'hai portata bene, dai. Pensa qua si è. Guarda, i scippi, mica hai i precipitetti. Scippi. Qua si vede anche la cantina di Baffumi. Baffumi. Pensa qua. Pensa qua. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Da pure Nicola Serafini qua qui. Nicola Serafini, vai. Eccolo, il boss. Tutto il mondo Ponte Calvese nel mondo. Ma è sopra il cielo della cosa, del mondo, va. L'uomo del mondo. Eccolo, vado a guardare. Stiamo facendo una visita guidata nel centro storico. Se viene con la video, la trasmissione. Non è in diretta, eh. Non è in diretta, Nicola. Però lo mettiamo sui luci. Ah. A che 200. Sampo qui. Però è bello Ponte Calvese. Vado a farlo. 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 Sì. Sopra da qua. No, dove è stata la radio una volta? Allora. Allora. Andai da al mare. Allora. Ah, bene. Allora luy orde. Attenti. Allora. Ma bella uva. Allora, hai lys... Chi è? Mella... non c'è un castello è una bella cosa, è grande, è una cosa in grande, è una bella cosa problema tecnico andate qua sotto, chiede qua questo è un problema era proprio di sfiatto, ha toccato? non ha toccato la porta si sta a scuagliare la ma non è? guarda la, Filì hai esagerato, l'hai fuso l'hai fuso, butta Filippo questo è storico questo è la cinta secondo me questo è la cinta secondo me stai arrivati a 500 euro per normale il motore ci lo portai a doppio e buttacene un po' di raffredda oh madonna, hai esagerato con la salita noi pesiamo io dovrei uscire? 80 kg io 70 io 70 tu che è questa puzza di bruciare? eh, si è fuso il motore non è scesa, vai bene eh ma non è niente, questa è la pressione secondo me è la pressione perché puzza troppo si sta a bruciare la plastica però, Filì fallo lì, si può raffreddare ma quanto è l'ora? eh abbiamo fuso che? un hamburger? un hamburger è diventato grazie grazie